Le vediamo queste linee di campo? Facciamo così e guardiamo l'effetto. Guarda che meraviglia. Un magnete naturalmente intorno a sé produce un campo magnetico. Allora impariamo, queste sono le linee di campo magnetico. Le vogliamo vedere queste linee di campo? Allora qui dentro io ho dell'acqua e dentro qui ho della limatura di ferro. Allora che cosa succede? Vedete questa limatura di ferro a che forza è sottoposta adesso? Alla forza di gravità. Infatti se ne stanno tutta giù. A questa polvere di ferro sono migliaia di magnetini, di piccoli magneti, che se si trovano in presenza di un campo magnetico forte come quello della calamita, si posizionano lungo le linee di campo. Le vediamo queste linee di campo? Facciamo così e guardiamo l'effetto. Guarda che meraviglia. Cioè, pazzesco. Fai girare. Met così.